non possono essere diversamente cerchio firenze 77 scuola del cerchio firenze 77 15 aprile 1970 essere divenire a cura di vb dali voi figli la scorsa volta vi siete chiesti perché per questo argomento è stato scelto più che altre volte il sistema di scoprire a poco a poco la verità perché figli cari noi desideriamo la partecipazione di tutti quello che noi vi diciamo è talmente inconsueto che ha bisogno che voi lo assimiliate veramente poco a poco allora inizialmente vi sono stati dati degli elementi e vi dicemmo per ora prendete questi principi e poi vedrete che essi stanno assieme e voi avete scoperto come stanno insieme i concetti della contemporaneità delle razze con il concetto della non contemporaneità del sentire individuale vi dicemmo per ora accettatelo adesso mi auguro lo avete compreso dopo i primi elementi forniti abbiamo cominciato a parlare assieme di questi argomenti la via può sembrare tortuosa e difficile come ha detto prima il fratello campis non abbiamo voluto che la cosa rimanesse condensata e trascritta in poche lezioni è vero noi abbiamo si può dire cominciato a parlare delle varianti all'inizio di questo ciclo di riunioni potevamo elencare un'altra serie di principi ma già l'argomento inconsueto sarebbe risultato per voi completamente estraneo ed ostico così a poco a poco vogliamo giungere con voi a capire questi nuovi concetti comprendere perché devono essere così e non possono essere diversamente comprendere anche il significato delle espressioni mistiche perché esse sono poetiche ma hanno un significato positivo i massimi servono i minimi è un'espressione mistica poetica meravigliosa ma ha un senso preciso esatto direi quasi meccanicistico ecco dunque l'importanza di queste conversazioni e di queste riunioni nessuno si senta figli cari dispiaciuto se non è stato ricordato o se non è stato ricordato il concetto che ha espresso o se non è stato detto che gli aveva capito bene nessuno si senta dispiaciuto se effettivamente non aveva capito bene siamo qui tutti fraternamente riuniti per aiutarci vicendevolmente nella comprensione nel trovare la forza per poterla dare agli altri perché vi ricordo che insieme alla discussione dell'insegnamento che a taluno e talvolta può sembrare ed essere accademica assieme alla discussione dell'insegnamento c'è figli la ragione di ricaricare le vostre energie di darvi forza per la vita che è altrettanto importante ogni aspetto dei temperamenti è qui contemplato quello dell'azione dandovi forza nella sicurezza quello della sapienza del ragionamento attraverso al ragionamento degli insegnamenti ma anche quello mistico perché noi stiamo qua assistendo ad un fatto essenzialmente mistico miracoloso eccezionale e rarissimo perché voi e non altri non ha alcuna importanza dove il seme cade perché noi e non altre entità non ha alcuna importanza chi getta il seme ma importante il seme è uno che lo getti è un terreno che lo riceva qualunque essi siano lo riceva qualunque essi siano nuovo i Grazie.